11 metri di gloria, Calemme si presenta dal dischetto allo scoccare dell'ora di gioco e batte, pag gratis con la soluzione di potenza. È l'unica rete di tutta la partita, il gol che decide il derby giocato sul sintetico del vicino, in favore del Brindisi e condanna di conseguenza la sconfitta, il Gravina, un brutto Gravina, un opaco Gravina che non riesce a dare continuità al buonissimo pareggio interno di mercoledì scorso contro il Picerno. Finisce nel recupero della prima giornata di ritorno 1-0 in favore dei Messapici che ritrovano la gioia del successo dopo oltre due mesi e dalla vittoria sempre in trasferta dell'epifemia contro i Francavilla in Simi. Diventano 22 punti in classifica per la squadra di Claudio De Luca, restano 15 invece quelli dei Murgiani che però hanno giocato tre gare in meno e hanno nel complesso quattro partite da recuperare. Gravina ultimo insieme a Portice e Putiolana, il primo tentativo è degli ospiti, Calemme, l'autore del gol partita, alza però troppo la mira con il destro e si dispera. Di Paola, servito da Abagian, non riesce dalla parte opposta a concludere verso la porta avversaria. Conclusione di Bottari per le V bianche, solletico per Pagratis, l'estremo greco dei padroni di casa. Abagian dialoga ancora con Di Paola ma la conclusione è da dimenticare per la scarsa coordinazione. Lo stesso Di Paola poco dopo lavora un interessante pallone per Ungaro che non sa incidere con la soluzione ad incrociare. Il Gravina prova a chiudere in avanti la prima frazione di gioco ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0 sino all'intervallo. Nulla da dire, primo tempo tutt'altro che spumeggiante. Spinge sull'acceleratore o almeno ci prova la squadra di Marco Gaburro in avvio di ripresa. Abagian cerca lo spazio per la conclusione, ci prova con il destro ma appizzolato e attento e se la cava deviando in corner. Poi l'episodio che decide la contesa. L'arbitro giudica da calcio di rigore questo contatto in area fra Palumbo e Pagratis. Dal dischetto Calemme si prende la responsabilità di calciare un pallone pesante e fa centro così. Brindisi in vantaggio nello scontro salvezza del vicino. C'è tempo per rimediare la situazione sfavorevole ma il Gravina dimostra di non avere idee brillantissime e non sfrutta neanche le situazioni provenienti da palla inattiva. Il Brindisi di conseguenza non ha particolari problemi a gestire il vantaggio e a condurre il successo in porto. Tre punti pesantissimi per i Messapici che tornano in corsa anche per la salvezza diretta, classifica sempre più complicata. Invece per il Gravina che domenica sfiderà in trasferta il Fasano in un altro derby salvezza, derby di Puglia con la valigia da viaggio in arrivo. Anche per il Brindisi che se la vedrà invece al degli Ulivi contro una Fidelisandria d'alta classifica.